Ciao a tutti amici, sono il vostro MannyMoto e oggi in questo video vi spiegherò come risolvere un problema molto semplice come rimuovere un uccello incastrato nel radiatore della vostra macchina Seguitemi Purtroppo il povero Pennuto ha disseduto due ore fa schiantandosi contro la macchina che aveva già l'80 all'ora in un rettilineo Faccia l'anima sua Siamo sicuri che la morte è stata in dolore Ora, mi raccomando, per effettuare questa operazione la prima cosa da fare è proteggersi le mani Purtroppo gli uccelli portano molti batteri Ora, a questo punto A questo punto Oh mio dio La missione più complicata del previsto La missione di recupero e l'estrazione si è trasformata in missione di salvataggio Povero uccelletto Ebbene sì amici, il video sarebbe venuto molto meglio se invece di finire la camera in telecamere in mano come un gelato Avesse appoggiata su un trappiede o sul porto esterno In modo a poter riprendere comodamente tutta l'operazione e lavorare con le entrambi le mani Ma nell'esitazione del momento non ci ho pensato Amici, ce l'abbiamo fatta Abbiamo svitato questi pezzi di questo cazzo di affare decorativo L'abbiamo sollevato, qui vedete ancora le piume Abbiamo spinto la testa dentro e l'ho riuscito a volare via La prima cosa che ha fatto è stata tirare uno schitto supremo E poi ha cercato di fuggere su quest'albero Il uccello è vivo Anche se non sappiamo come sta Taci i cani, tu non mi hai fatto molto per aiutarti Bene amici, il vostro mini moto è tutto E vedete il prossimo video Alla prossima